Quando ne guardiamo troppa, i nostri genitori ci rimproverano. Eppure non ne possiamo fare a meno. Nessuno in realtà può ormai fare a meno della TV. Eppure, il 26 gennaio del 1926, ben 94 anni fa, nessuno pensava che la televisione avrebbe cambiato così tanto la nostra vita. Ma andiamo con ordine. La storia dell'invenzione della televisione inizia in realtà alla fine del 1800, ben due secoli fa. Precisamente il 24 dicembre del 1883, grazie a uno speciale disco bucherellato inventato dal tedesco Paul Gottlieb Nipkov. Paul Gottlieb Nipkov, nato il 22 agosto 1860 a Lauenburg, in Germania, andò a scuola a Neustadt, nella Prussia occidentale. Nipkov ha studiato telefonia e trasmissione di immagini in movimento. Dopo la laurea è andato a Berlino per studiare scienze. Ha studiato l'ottica fisiologica con Herman von Ermels e l'ottica fisiologica e l'elettrofisica con Adolf Slavi. Mentre era ancora uno studente, ha inventato un dispositivo che ha chiamato il telescopio elettrico. Il componente chiave di questa invenzione in seguito divenne noto come disco Nipkov. Secondo i resoconti della sua invenzione, alla vigilia del Natale del 1883, quando era seduto da solo a casa con una lampada ad olio, concepì l'idea di usare un disco perforato a spirale per dividere un'immagine in un mosaico di punti e linee. Un altro componente importante della sua invenzione era una fotocellula al selenio. Nipkov fece domanda per un brevetto presso l'ufficio brevetti imperiale di Berlino per il suo telescopio elettrico. Questo era per la riproduzione elettrica di oggetti illuminanti nella categoria apparecchi elettrici. Il brevetto tedesco numero 30.105 fu concesso il 15 gennaio 1885, retroattivo al 6 gennaio 1884. Nipkov aveva preso posizione come designer presso l'istituto Berlin-Bucklo e non ha continuato l'ulteriore sviluppo del telescopio elettrico. I primi pratici sistemi televisivi utilizzavano un metodo elettromeccanico di scansione delle immagini, il metodo che Nipkov aveva contribuito a creare con il suo disco. Nipkov raccontò la sua prima visione della televisione a un programma radiofonico di Berlino nel 1928. Centinaia rimasero e attesero pazientemente il momento in cui avrebbero visto la televisione per la prima volta. Attesi tra loro, crescendo sempre di più il mio nervoso. Ora per la prima volta vedo quello che avevo ideato 45 anni fa. Alla fine lo vidi con un panno scuro spinto di lato davanti a me un'immagine tremolante, non facile da descrivere. Alcuni anni dopo, la direzione del Terzo Reich vide il valore della propaganda nel sostenere che la televisione era un'invenzione tedesca e nel 1935 nominò la prima stazione televisiva pubblica. Dopo Nipkov è diventato presidente onorario del consiglio televisivo del Reich Broadcasting Chamber. Nipkov morì il 24 agosto 1940 a Berlino. Per ordine del governo gli fu dato un funerale di Stato.